Credi in Cristo! Noi ne abbiamo detto con una nuova passata. Credi nel Messia. Credi nel Nazareno. La via, la verità e la vita. Vuoi messaggio? Vuoi messaggio da leggere? Credete nel Re dei Re. Gloria a Dio. Non abbiate altri Dei all'infuori di Lui. Quindi, il vero Dio è il Dio della Bibbia. Credi in Gesù. Lascia il peccato. Abbandona il peccato. Perché la fine del peccato è la morte, l'inferno. Ma chi fa la volontà di Gesù Cristo ha la vita eterna. Credete alla parola del Signore. Dice la Bibbia in tanti brani che il regno di Dio è vicino. Così lo prende anche il fratello. avvicinatevi alla parola dell'Eterno. Gloria a Dio. In questo mondo tutto finisce. In questo mondo tutto finisce. Questo mondo ha avuto un inizio e avrà anche una fine. Tocca, tocca, tocca. Prepariamoci per il regno a venire. Gesù ritorna, carissima. Lega la parola. E abbandona la sigaretta. Comincia. Comincia a lasciare il peccato. Già la sigaretta ti rovina i polmoni. Ogni tirattina è un secondo di vita in meno. Attenso, eh. Ogni tirattina muore. Muore. Il corpo già sta morendo. Credi in Cristo. Alleluia. Abbi la fede. Rispetta i comandamenti del Signore. Non usate il nome di Dio in vano. Amate Dio. Amate Gesù Cristo. Razza di pagani. Razza di profani. Amate Gesù. Il regno di Dio. Il meraviglioso. Della gloria tua. Il grande Messia. Santo e santo. Il figlio di Dio. Amate. La pietra angolare. La rocca eterna. Il pane della vita. Alleluia. Alleluia. Gloria a Cristo. Il piano di Dio che toglie il peccato del mondo. Può togliere il peccato che hai dentro di te. Il peccato della messemia. Il peccato del vizio. Il peccato della droga. Il peccato dell'adulterio. Dell'omosessualità. Il peccato che hai dentro. Gesù lo può togliere. Basta. Basta di peccare. Gesù è l'agnello di Dio. Alleluia. Il re dei giudei. Il salvatore del mondo. Guide c'è. Alleluia. Perciò convertitevi al vero Dio. Yahweh. Santo poderoso. Gesù Cristo. Lo Spirito Santo. Lavati la bocca. Prima di scimbre. Sporco. Lavati la bocca che hai. Eh. Parlano parolacci. Sono già vecchi. C'hanno un piede nella fossa. E dicono brutte parole. Poveri loro. Dio mio. Perdonali. Perdonali Gesù. Ave pietra Signore. Credete nel vero Dio. Che non è una statuetta. Il vero Dio non è in una statua. In un'immagine di legno. Il vero Dio è nei cieli. Il re dei re. Dignelo forte. Risvegliatevi genovesi. Risvegliatevi. Razza di pagani. Credete in Cristo. Alleluia. Gloria all'Eterno. Credi in Gesù. Credi nel Messia. Dio è amore. Ma è anche un giudice. Che giudicherà la terra. Amen. Gloria. Dio è amore. Ma è anche un fuoco consumante. Lo ha iso. Dio è amore. Ma giudicherà il malvagio. Ma giudicherà il malvagio. Se c'è qualche malvagio che mi ascolta. Chiedi perdono a Gesù. a Cristo direttamente. Alleluia. Alza gli occhi al cielo e digli. Signore perdonami. Alleluia. Alleluia. Non devi chiedere perdono ai preti. eh. I preti sono forse i più grandi peccatori. I preti sono corrotti. Sai cos'è l'unico peccato? Ma devi stare un po' zitto. E rotti i coglioni. Porco Dio. Sgrigia padre. Vai via ogni demone. Fuora diavolo. Batti e ritirà dai nomi di Gesù. Via Satana. Dai nomi di Gesù. Ma non li possono toccare. Sono parole. Il cana vaia. Ma Gesù è lui. In nome di Gesù. Non vi ribellate a Dio. Che Dio dà la vita. E Dio la toglie la vita. Dio vi vuole perdonare. Dio vi vuole salvare. Ma anche se mi toccassero. Li rispondo con amore. Porgi l'altra guancia. Dette Gesù. Se ti danno uno schiafo. Porgi l'altra guancia. Questa è la forza. Non reagire. Alleluia. Cristo è amore. Cristo è amore. Cristo vi vuole perdonare. Mi sveglia. Sveglia Genova. Sveglia. Gesù è la via. La verità è la vita. Creda in Gesù. Gesù ama Signore. Credete nel Messù. Gesù è la speranza. Gloria, gloria, gloria a Gesù. Cristo rompe le catene. Alleluia. Cristo rompe le catene. Cristo rompe le catene. Cristo rompe... Atenzione. Credete al congelo. Ah, io cerco. Alleluia. A più fa la volontà di Dio. Rimane in eterno. Cercate la parola del Signore. Pentitevi dei vostri peccati. Il Signore sta vertendo i popoli. Il Signore sta vertendo l'umanità. Alleluia. Degnerà un giudizio su questo mondo. Signor Santo. Verrà una fine su questo mondo. Convertitevi a Gesù Cristo. che ha dato la sua vita per noi alla croce. Gloria a te, Signore. Convertitevi al Re dei Re. Alleluia. Guida, c'è il Spirito Santo. E avrete la salvezza dell'anima. Alleluia. Convertitevi al Re dei Re. Questi sono gli ultimatum del Dio del Cielo. Prima che vengano sulla Terra tempi peggiori, una grande timolazione verrà. Le cose scritte nell'Apocalisse avranno il loro compimento. Convertitevi a Gesù. entrate per la porta stretta. Gloria a te, Signore. Perché larga è la via della perdizione, la via larga. Ma la via della salvezza è la via stretta. Gloria a te, Signore. Entrate per la porta stretta. Genova, pentiti dei tuoi peccati. gloria a Cristo. Pentiti delle tue mestegne. Puia. Pentiti nei tuoi furti. Pentiti nei tuoi adulteri. Amorti. Amicini. Pentiti. Riconoscendo Gesù. Tu come unico Signore dei Signori, la re di Cristo. E avrei salvata la tua anima se credi nel Signore dei Signori e lo adori in spirito e in verità. abbandonando il peccato ma anche l'idolatria. Abbandona l'idolatria. E le persone venerano le statue, venerano i santini, le madoline poi besteggiano come dei pazzi. Che Dio li liberi. Gloria a Cristo. Ascolta la verità. che Dio li liberi. Che Dio li liberi. Per entrare nel Regno dei Signori potremmo essere puliti. Puliti. Nell'anima. Puliti nel cuore. Alleluia. Alleluia. Per questo Gesù ha dato il suo sangue alla croce. Alleluia. Ecco perché previsiamo come una voce che grida nel deserto. Santo. Nel deserto di questi cuori di pietra. Alleluia. Che Gesù Cristo è l'agnello di Dio. Amen. Che toglie il peccato dai nostri cuori. Anche noi prima eravamo pieni di peccati. Ubriachezza. Adulterio. Bestemmia. Anche noi eravamo posseduti dal maligno. Ma oggi siamo qui a previsare il nome di Gesù e il Regno del Cielo. Raiasoria. Gloria a Gesù. Oggi siamo qui a evangelizzare. Gloria, gloria. A predicare la Bibbia. A dire che Gesù è grande. Cristo è l'unica speranza dell'umanità. Il Figlio di Dio, il Redentore. La parola fatta carne. a me. A me. A me. Nel principio era la parola. La parola era con Dio. Alleluia. La parola era Dio e quella parola è il verbo. ci ha fatto carne. Alleluia. Ed è venuto ad abitare tra di noi. Pieno di luce, di gloria e di verità. Ed in Cielo Signore dei Signori nel Vangelo secondo Giovanni. Alleluia. Cristo vive. Capitolo 8 Gesù ritorna. Alleluia al Padre. Conoscerete la verità. La verità vi farà liberi. La verità è sessuale. E l'unica verità si chiama Gesù Cristo. Gesù Cristo è la via, la verità è la vita. Leggi il Vangelo.